Commenta il Fatto del Giorno Sandro Neri, direttore del Giorno. Oggi parliamo del governo Tambroni. La breve e drammatica parabola del governo Tambroni rimanda un'Italia a due facce. Quella del boom economico è il 1960 e l'Italia sta vivendo l'apice di quella rinascita cominciata alla fine degli anni 50. Ma è anche un'Italia pervasa da grandi tensioni, tensioni di ordine sociale soprattutto. E' anche un'Italia in crisi politica. Tant'è che il governo Tambroni arriva dopo un fallito tentativo di creare un governo democristiano. E soprattutto dopo le pressioni perché quel governo non nascesse con l'appoggio dei socialisti. Tambroni riceve il mandato da Gronchi, il Presidente della Repubblica di cui lui era amico personale. E però tiene la fiducia solo grazie all'apporto dei monarchici e soprattutto dei missini. Mentre paradossalmente parte della democrazia cristiana gli aveva votato contro. E' un passaggio fondamentale perché per la prima volta i missini si trovano ad appoggiare un governo e perché poi la contropartita sarà anche la concessione ai missini di tenere un congresso a Genova. Si scateneranno delle tensioni enormi degli scontri che solo miracolosamente a Genova non faranno delle vittime ma faranno invece delle vittime nei giorni successivi negli scontri scoppiati in altre città soprattutto a Reggio Emilia dove si conteranno morti e feriti. Tambroni tenta in tutti i modi una disperata resistenza, non vuole mollare, vuole tenere in piedi il governo nonostante le polemiche, le accuse, il sangue versato sulle strade è veramente un'Italia che sembra arrivata di nuovo sull'orlo della guerra civile ma alla fine dovrà rendersi e lasciare la sua figura politica forse anche a causa del suo carattere, dell'eccessivo ricorso all'autoritarismo in realtà segneranno per sempre il suo governo, la sua storia politica e personale e anche quel particolare momento della storia italiana.